Buongiorno, benvenuti. Grazie di essere arrivati questa mattina in questo bellissimo castello ed è sempre un piacere unire il passato con il presente e il futuro. Una delle frasi più belle che mi piace ricordare, vorrei ricordare anche questa mattina, un amico mi dice se non ti occupi della tecnologia è la tecnologia che si occupa di te e spesso non è una buona notizia. Allora noi siamo qui per occuparci di tecnologia grazie a Metelle e di capire cosa sta accadendo attorno a noi, come l'innovazione sta trasformando i nostri mercati, le nostre aziende. Vi presento subito il presidente per un breve saluto, il presidente di Metelle, Franco Villani. Buongiorno, benvenuto. Funzionano già? Sì. Allora buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie di aver accettato il nostro invito. Un ringraziamento particolare ai rappresentanti dei soci di Metelle che sono qui con noi oggi, quindi Tommaso Prini per Anie, Guido Barcella per FME e Vincenzo Salerno per Arame. Un ringraziamento particolare anche ai nostri amici relatori che saranno con noi oggi e presenteremo durante la giornata, la mattinata. Bene, ogni anno in questa occasione ci piace dare uno sguardo a Metelle e alla nostra filiera diciamo in tre direzioni. Prima di tutto guardiamo un attimo, veramente un attimo, dietro di noi per tirare un po' le somme dei risultati, delle performance, degli andamenti di Metelle, visto che quest'anno si sta chiudendo qualche somma possiamo già tirarla. Però invece di tirare le somme solo sul 2016, su un anno solo ci sembra più interessante guardare ad un orizzonte un po' più lungo perché questo ci permette di capire meglio cosa sta avvenendo. Se prendiamo l'ultimo tre anni, stavo dicendo trimestre perché nelle nostre aziende si parla sempre di più di trimestri e anche di meno, però se guardiamo Metelle negli ultimi tre anni ci accorgiamo che è successo qualcosa di veramente significativo. negli ultimi tre anni il numero di clienti di Metelle è diminuito del 10%. Non è una novità, è una cosa assolutamente prevista, assolutamente attesa. Sappiamo benissimo tutti noi in questa sala che il nostro settore, la nostra filiera in particolare è soggetta a un processo di concentrazione molto evidente, molto continuo, se vogliamo non dirompente rivoluzionario ma che continuamente prosegue, direi inesorabilmente, a tutti i livelli, a livello della produzione, a livello della distribuzione, a livello della intermediazione. Quindi è naturale che la filiera si concentri ed è naturale che una società come Metelle, che è una società di filiera, che opera in un mercato chiuso, subisca tra virgolette questo calo di interlocutori. A fronte di questo calo del 10% di clienti, Metelle ha aumentato le sue vendite, il suo fatturato in questo triennio del 12%. Come è avvenuto questo? È avvenuto grazie al mix di offerta di Metelle. Metelle ha allargato in questi anni i suoi servizi, li ha molto ampliati e grazie a questo ampliamento ha tradotto il suo mix di vendita in un mix più ampio, più largo e questo ha consentito quindi di compensare più che compensare questo calo di clientela e allargare le soluzioni fornite ai clienti. In questi due numeri c'è la sintesi estrema di cosa sta facendo Metelle. Quindi a fronte di un ridimensionamento del numero di interlocutori inevitabile sta allargando i servizi offerti cercando di portare sempre più soluzioni alla filiera. Abbiamo guardato indietro per qualche minuto ma ci piace soprattutto guardare avanti, guardare al futuro di Metelle, al suo sviluppo, alle sue potenzialità. Per fare questo dobbiamo però dare il terzo sguardo al nostro settore, alla nostra filiera e guardarci intorno, guardarci a cosa sta accadendo attorno a noi. Se ci poniamo la domanda di quale sia l'evoluzione in atto più significativa, più significativa a livello delle nostre aziende, a livello dell'industria in generale, se vogliamo a livello anche sociale, credo che tutti in questa sala possano dare la stessa risposta. L'evoluzione, la trasformazione in atto più significativa è senz'altro la digitalizzazione, credo che siamo tutti d'accordo. La digitalizzazione è pervasiva, è fortemente impattante sulle nostre attività, sull'attività delle nostre aziende, a qualsiasi punto della filiera esse si trovano. È dirompente un po' su tutti i processi che caratterizzano le nostre aziende, sui processi più basici, quelli più tradizionali, fino a quelli più innovativi e quelli ancora da inventare. Riguarda i processi interni all'azienda, ma riguarda ancora di più probabilmente i processi di confine, quelli fra l'azienda e i suoi interlocutori a Monte e a Valle, i suoi partner. Riguarda il back office dell'azienda come il front office, termini come Industria 4.0, big data, cloud, e-commerce, comunicazione digitale, fattura elettronica, chi più ne ha più ne metta, sono tutti elementi di questo puzzle che sta trasformando le nostre aziende. Questo però è esattamente il territorio di Metel. Soprattutto i rapporti di confine, i rapporti relazionali fra le aziende riguardano esattamente le attività di Metel. Quindi chi meglio di Metel può accompagnare le nostre aziende nel trasformare alcuni, perlomeno alcuni di questi processi, in termini di digitalizzazione. Metel può fare esattamente questo. Perché lo faccia servono due condizioni. La prima attiene alla ideazione di nuove soluzioni da trasformare in nuovi servizi per le nostre aziende. E qui i protagonisti sono i colleghi di Metel, ma anche le aziende di filiera che possono contribuire con suggerimenti, stimoli specifici verso Metel. E questo non è l'ambito che ci preoccupa di più. Ci preoccupa di più, ci deve più che preoccupare, occupare di più la seconda fase, che è quella dell'implementazione. La seconda condizione necessaria è quella che a seguito dell'ideazione ci sia una veloce e corretta implementazione, attuazione delle cose che vogliamo fare. E qui a volte casca l'asino. Qui siamo a volte troppo lenti, non abbiamo una velocità sufficiente, non abbiamo una intesa di filiera sufficiente. Devono migliorare entrambe. Deve migliorare l'intesa di filiera, deve migliorare la capacità rapida di attuazione. Cosa fare? Sarebbe facile dire bisogna collaborare di più, ma per dire una frase del genere bisognerebbe vestirsi di bianco, andare a Roma in piazza San Pietro e dire collaborate di più. Non mi sembra una grande innovazione collaborare di più. Credo che invece si possa fare qualcosa, e questo è il mio suggerimento, di più concreto. In questo triennio, che terminerà col prossimo bilancio di mia presidenza di Metel, cosa ho imparato? Ho imparato che spesso manca una selezione forte dei progetti che Metel può intraprendere. Ci sono tante idee, tante opportunità, ci sono idee che nascono dalle esigenze magari di una sola azienda, sono benvenute queste idee, però se non c'è una forte selezione basata sull'interesse comune, interesse non è una brutta parola. Ci deve essere il vero interesse di ogni componente della filiera, deve essere un interesse davvero diffuso, allora se c'è questo interesse reale su magari pochi progetti, ma ripartiamo con dieci idee e ci focalizziamo su tre. Se però su queste tre c'è una forte condivisione, c'è una forte determinazione, allora io credo che Metel e le aziende della filiera insieme abbiano tutte le competenze e tutte le condizioni per trasformare queste opportunità in risultati concreti per le nostre aziende. Io vi lascio con questa considerazione e lascio la parola ai prossimi relatori. Grazie. Molte grazie, dunque lasciatemi fare solo una raccomandazione, se potete o spegnete il telefono, ma visto che oggi i telefoni non si spengono più, metteteli silenziosi così non ci disturbate. Dunque, Vincenzo Salerno, presidente di Arame, buongiorno, benvenuto. Un saluto e poi arriveranno anche altri rappresentanti per un breve saluto tra poco. Grazie. Buongiorno, porgo a tutti i presenti il saluto di Arame. Un grazie a Metel per l'invito a partecipare a questo evento molto importante, che è un appuntamento annuale in cui tutta la filiera del materiale elettrico si incontra, per prendere visione di quelle che sono le evoluzioni e gli sviluppi di Metel. Ma è allo stesso tempo un'occasione per fare il punto sull'andamento di mercato degli ultimi 12 mesi appena trascorsi. Nell'ultimo anno abbiamo assistito a un andamento positivo del mercato per quanto riguarda il terzo quadrimestre del 2015, andamento che ha continuato ad essere positivo, fino a metà del 2016. Da luglio la spinta si è un po' affievolita a causa delle incertezze politico-economiche del nostro Paese e non solo, riportando a fine agosto i volumi ai valori dell'anno scorso pari periodo. In questo scenario non facile Metel ha continuato a sviluppare nuove iniziative e a non fare mancare il sostegno alle proposte dei tre partner e dei tre soci Anie, FME ed Arame. La più recente riguarda la regolamentazione dei rapporti tra agenzie, produttori e distributori di cui si è avviata una fase di start-up per la raccolta dei dati. Un anno fa, in occasione dell'evento Metel 2015, avevo segnalato la difficoltà delle agenzie Arame, ma anche quelle non Arame, a entrare a far parte, a pieno titolo, del ciclo dell'ordine a gestione tramite lo standard Metel. Ciò a causa della poca disponibilità dei produttori ad autorizzare l'accesso al ciclo dell'ordine tramite lo standard Metel. Alcuni giorni fa mi sono confrontato con il direttore di Metel per verificare se questa situazione avesse avuto un andamento positivo, avvesse avuto un'evoluzione positiva. Ebbene, soltanto tre aziende in questo anno hanno dato la possibilità alla propria rete vendita di poter accedere alla gestione dell'ordine tramite Metel. È un risultato poco confortante. I benefici della gestione dell'ordine tramite Metel sono noti a tutti e l'integrazione delle agenzie velocizzerebbe le procedure e si ridurrebbero gli errori e le incomprensioni, spesso causa di resi e emissioni di note credito con un conseguente aggravo di costi. Essendo in casa Metel, mi permetto quindi di rinnovare l'invito ai produttori a consentire l'integrazione delle agenzie in Metel per l'efficientamento dell'intero sistema. Auspico inoltre che grazie al dialogo e alla collaborazione che caratterizza i nostri rapporti anche Anie ed FME siano disponibili a sensibilizzare i produttori ad attivarsi affinché le proprie reti commerciali possano partecipare alla gestione tramite Metel. Le economie di scala e benefici riguarderebbero l'intera filiera. Concludo con una considerazione. L'evoluzione del mercato comporta continui e veloci cambiamenti. Ogni componente della filiera, nel rispetto del proprio ruolo e della propria funzione, deve mettersi in discussione e individuare nuovi percorsi per restare al passo con i tempi. Con i servizi che Metel mette a disposizione, con il dialogo e la collaborazione, sarà meno faticoso e più proficuo per tutti. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti. Molte grazie. Faccio, non dico faccio mio, ma mi unisco all'invito, anche perché in questi casi, come in tanti altri casi, un passo avanti di un'azienda in realtà rappresenta un passo in avanti per tutta la filiera, per tutto il sistema e per tutto il mercato, però purtroppo c'è ancora chi fatica a fare questi passi. Guido Barcella, presidente di FME, buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, un saluto da parte di FME che mi onoro di rappresentare in questa sede. Che cos'è Metel? Metel è una grande realtà. Lasciatemi dire una cosa, quando io mi confronto con i colleghi europei e spiego a loro cos'è Metel, queste mi dicono noi non abbiamo niente di simile. Quindi il primo concetto è Metel è un'eccellenza italiana, è un nostro patrimonio che nel tanto nostro vituperato paese, a volte preso un pochettino sotto gamba dai nostri amici europei, rappresenta invece un'eccellenza della nostra filiera. e questo è bene ricordarcelo e non dimenticarlo mai. Qualche numero, 650 clienti, 2 milioni e virgola 5 di articoli codificati, 700 mila schede tecniche, 280 mila articoli con caratteristiche tecniche codificate. un patrimonio nostro. Franco Villani ha toccato il tema caldo di questi anni. Oggi si parlerà di Internet of Things, Internet of Everything. E questa è la caratteristica del nostro mondo di questi momenti. la connettività e l'interscambio a tutti i livelli. Facebook ad aprile del 2016 aveva 1,65 miliardi di profili attivi con una popolazione di 7 miliardi. Su Facebook ci si va da 13 anni in su. Questo è il bisogno di connettività. Questo è l'elemento. Vi ho fatto questo esempio per dire dove sta andando il mondo e adesso caliamoci nel nostro mondo, nella nostra filiera. Gli impianti elettrici saranno sempre più interconnessi. Elettrotecnica ed elettronica si connetteranno sempre di più. Quindi connessione di informazioni, ancor prima che di apparecchiature. Metale in questo senso ha giocato un ruolo importante negli ultimi anni. semplificando i flussi informativi, riorganizzando e snellendo le procedure di trasmissione delle informazioni tra le aziende della filiera. E ha portato un grande vantaggio. Adesso nuove sfide ci sono perché possiamo fare n cose in più. Trasmettere molte altre informazioni e ottimizzare al massimo e rendere la nostra filiera assolutamente competitiva e all'avanguardia a livello nazionale e, ripeto, internazionale. Ora non scendo nel dettaglio delle iniziative. Sicuramente i relatori dopo di me potranno illustrare gli scenari e soprattutto il management di Metale ha le idee ben chiare con cui ho avuto il piacere di confrontarmi su che cosa, su quale iniziative portare avanti, su che cosa fare. L'unica cosa che dico e dico a tutti gli attori qui presenti starà a noi sostenere queste iniziative di volta in volta, farle nostre e portarle avanti. Poche ogni anno, però nella nostra lunga to-do list scegliere due, tre progetti e portarli avanti ogni anno. E così potremo progredire, potremo fare crescere ulteriormente questo mercato che è un mercato importante, un mercato che ha grandi possibilità di sviluppo in futuro, lo ripeto, e che potrà darci ancora ottime soddisfazioni. Buon lavoro, buon lavoro a tutti voi, buon lavoro a Metale. Grazie. Bene, concludiamo questa prima parte di saluti con Tommaso Prini che rappresenta Anie. Buongiorno, benvenuto e grazie anche per la sua presenza. Ecco, un saluto anche da parte mia a nome di Anie e mio personale. Io volevo tornare sul tema della digitalizzazione che è stato prima toccato anche da Franco Villani. Per dire che ho avuto un'esperienza insieme alla nostra associazione, una duplice esperienza. La prima è stata quella che ho sentito un produttore di cavi e a quale ho chiesto quale fosse il mix di traccavo rame e fibra. E mi ha detto che l'80% del fatturato era fatto dalla fibra. Questo vuol dire trasmissione dei dati. La seconda considerazione è che noi in Anie abbiamo costituito un gruppo che per adesso è un gruppo diventerà poi forse un'associazione nell'ambito della federazione che tratta dell'Internet of Things, dell'IoT. Ecco, l'aspetto particolare che mi è capitato subito della prima riunione è che le piccole aziende, io pensavo che le grandi aziende che fanno parte dei grossi network eccetera questi conoscessero già tutto sapessero già tutto e mi pensavo che potessero essere attraenanti anche per le piccole perché mi immaginavo che le piccole non sapessero esattamente cosa voleva dire andare in cloud dare la connettività invece le piccole sono assolutamente consapevoli di queste necessità e di queste opportunità cosa vuol dire? Che il mercato ormai queste cose le ha già digerite le vuole le chiede alle nostre aziende anche le piccole aziende quindi non è una cosa che dobbiamo mettere in piedi adesso e cercare di stimolare l'attenzione è una cosa che dobbiamo cercare di come dire regolamentare perché si possano tutte le aziende avere una base comune per poter poi andare nel cloud e avere a disposizione queste informazioni perché il mercato è già andato avanti noi siamo già come dire non dico arretrati ma dobbiamo sicuramente correre dietro queste necessità che sono ormai impellenti pena il decadimento del nostro mercato anche da un punto di vista di valorizzazione tecnologica ecco questo è l'aspetto che più mi ha colpito insomma di queste prime riunioni e credo che sia anche un tema dominante della nostra della riunione di oggi di Metel niente io dico che giustamente come diceva Franco Villani Metel deve cogliere determinate opportunità in questo ambito occorre naturalmente che i soci i soci fondatori Agni, FME ed Arame siano consapevoli e diano la spinta necessaria a Metel poterlo fare ecco questo è il mio augurio e con questo augurio lascio la parola ai prossimi interventi grazie a tutti ci stiamo avvicinando alla fine del 2016 e bisogna cominciare e molti lo stanno facendo già da un po' di tempo a pensare al 2017 allora che cosa succederà nel 2017 in Metel Giorgio Casanova che è il direttore generale di Metel ci racconta cosa si trasformerà e quali sono gli scenari del prossimo anno buongiorno a tutti intanto grazie grazie veramente per la vostra presenza grazie ai soci che ogni anno ci confortano ci danno gli stimoli giusti per migliorarci per stare al passo per portare come diceva anche il Presidente Villani le idee ma soprattutto sviluppare anche le idee che ci arrivano da voi io tante volte mi sono chiesto in questi oramai 17 anni di Metel quando mi guardo al mattino non faccio più la barba però allo specchio mi guardo ancora e mi chiedo quanto sono fatto di zeri e di uno cioè il mio DNA quanto è veramente digitale e io vi invito tutti a fare questo tipo di domanda a voi stessi perché è la vostra capacità di capire quanto siete in grado di cavalcare quest'onda che ci sta arrivando ed è un'onda pesante è un'onda importante perché è l'onda che ha fatto sparire aziende come Kodak come Blockbuster e sta arrivando ancora più alta il nostro ruolo come Metel è quello di permettervi di avere ecco guardate non è stato fatto apposta ve lo giuro però lì c'è scritto uscita di emergenza e poi c'è scritto Metel sotto non so se l'avete notato ma vi giuro che non è stato preparato non è stato preparato i soci hanno detto tutto quello che c'era da dire quindi non mi dilungo tanto era solo una se si può far partire la presentazione Metel of Things ecco partiamo da come diceva il presidente prima quante cose facciamo tante cose ma non le voglio elencare non preoccupatevi volevo soltanto farvi vedere come sono cambiate le cose nel tempo e allora ho pensato come faccio a far passare immediatamente l'importanza di quello che sta succedendo e quanto le aziende sono interessate da questi grandi cambiamenti e allora ho pensato di mettere quando di dieci anni in dieci anni la digitalizzazione gli utenti e che cosa ha fatto Metel nel tempo se noi molto velocemente andiamo a vedere che cosa succede sugli utenti vediamo che tutto quello che succede negli ultimi dieci anni avvicina tantissimo l'azienda all'utente finale ma cosa vuol dire che l'avvicina l'avvicina in tutti i sensi fino a qualche anno fa parlavo con direttori d'azienda proprietari che diceva facebook è qualcosa che ci fa perdere tempo oggi se non si comunica anche dal punto di vista aziendale con questi strumenti si perde un po' di visibilità non è un segreto che negli Stati Uniti facebook che è stato anche nominato si sta preparando per l'e-commerce pensate alla potenza che può avere questa diciamo così impronta su qualcuno che conosce esattamente tutto quello che ci piace tutti i nostri gusti tutto quello che pubblichiamo tutto quello che facciamo alla faccia della privacy qualcuno potrebbe dire però questa è la realtà che ci si sta presentando andiamo a vedere questo everyone and everything cosa significa se parlo dal punto di vista aziendale che è la cosa del B2B che è la cosa che mi interessa di più è anche l'everything vedremo oggi cosa significa ATIM una semplice classificazione prodotti perché poi alla fine diciamo sì la classificazione prodotti ma poi vedremo che è calata in una legge europea e vedremo che esiste un business information modeling che lo conterrà e che probabilmente darà la possibilità all'azienda di partecipare agli appalti pubblici come sta succedendo in Inghilterra come succederà nei prossimi paesi grazie a una legge europea della comunità europea vedremo anche che cosa significa un'esperienza di un produttore che ha cavalcato l'ATIM abbiamo scelto apposta un produttore proprio per far capire ai produttori quali sono i vantaggi che ci sono in termini di comunicazione di aggiornamento del mercato con uno standard di riferimento e quindi non parliamo di METEL come standard nazionale parliamo di qualcosa di internazionale allo stesso tempo vedremo anche che cosa è la frontiera della supply chain finance che cosa sta succedendo grazie alla digitalizzazione e che cosa può essere anche un futuro di nuovi servizi attenzione non è una proposta è qualcosa che ci fa soltanto riflettere che cosa posso dirvi ancora io sono stato parlando di industria 4.0 che è stata effettivamente nominata all'ultimo convegno di Asinform e ho visto l'esperienza diciamo così della Dallara Dallara è un'azienda che produce e lavora nell'aerodinamica e nelle auto da corsa che è passata da un fatturato di 32 milioni con 107 dipendenti a 70 milioni di euro con 540 dipendenti ma facendo che cosa? Hanno fatto una cosa incredibile la Dallara praticamente ha investito tantissimo in super computer ha investito in ingegneri e oggi simulano quello che succede ad un'auto per esempio in un crash test hanno fatto l'esempio della Bugatti la Bugatti è una macchina che costa 1 milione 200 mila euro se non vado errato hanno fatto 13 crash test e per 13 volte non l'hanno superato pensate cosa è voluto dire in termini di costo per quella azienda costruire 13 prototipi ogni volta diversi progettarli personale test alla fine fa il crash test e non funziona con i supercalcolatori l'internet of things eccetera sono riusciti a mettere insieme tutto quello che serviva per simulare quello che sarebbe successo e al primo crash test con questa nuova tecnica è stato superato questo è un piccolo esempio e quindi che cosa vendono oggi in Dallara modelli matematici è cambiato il modello di business ma come cambierà con l'internet of things il modello di business tradizionale quale potrà essere un nuovo servizio un nuovo prodotto è vero tutti i vostri prodotti i produttori saranno sempre più interconnessi con la rete quindi non solo le informazioni sui prodotti ma le informazioni che producono i prodotti sono all'interno della rete pensate che cosa vuol dire questo da un punto di vista di possibilità di creare dei servizi possibilità di catturare l'attenzione dell'utente finale ma sempre a beneficio ovviamente dell'utente finale questa è un po' diciamo così la riflessione che vi chiedo di fare ma per quanto riguarda METEL cosa farà METEL nel prossimo anno METEL continuerà a concentrarsi su quelli che sono i servizi che pochi ma sempre meno ma quelli che effettivamente vi servono per andare oltre per cercare di cavalcare quest'onda che ci sta arrivando addosso METEL da questo punto di vista ha preparato insieme a un'azienda che ringrazio è la We Are di Emanuele Borrasio che è una start-up italiana se non vado errato Paolo dimmi se sto sbagliando quindi qualcosa che è partito nel segno dell'innovazione e che ha preparato questa demo e vi farò vedere adesso questa demo appena parte il filmato grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.